E' lì dentro da sette ore. Ho sentito che ha un esaurimento. Così fa fallire il fondo. No, lui preferisce che mandi un'email. Mi scusi, signor Philz, signor... Ciao, Lawrence. Noi non abbiamo alcuna fiducia nella tua capacità di individuare i trend macroeconomici. E sei venuto fin qui per dirmi questo? Perché? Chiunque può vedere che c'è una bulla immobiliare. A dire il vero, nessuno vede una bolla. E' questo che la rende una bolla. Che stupidaggine, Lawrence. Ci sono sempre degli indicatori. Le frodi ipotecarie si sono quintuplicate dal 2000. Gli stipendi medi e netti sono rimasti invariati. Però i prezzi delle case aumentano. Significa che le case sono debiti, non asset. Quindi Mike Burry di San José, un tizio che si fa tagliare i capelli dal giardiniere, che gira in ufficio senza scarpe. Ne sa di più di Alan Greenspan e Dan Paulson. Sì, sì, il dottor Mike Burry, lui, sì, sì. Per ora sembra che nella categoria Cast pluripremiato vinca tra i film del 2016 la grande scommessa con quattro attori vincitori premio Oscar Christian Bale, Melissa Leo, Marisa Tomei e Brad Pitt e due nominati all'Oscar, cioè Steve Carell e Ryan Gosling. Promette bene, secondo voi? Beh, insomma. Fatemi sapere e cliccate qui accanto se volete vedere altri video. Starring Valeria. Ciao, ciao. Ciao.